Luci, baite, prodotti tipici tirolesi e tante animazioni sono gli ingredienti per la ricetta dei mercatini di Natale che superate le polemiche delle scorse settimane arrivano in Piazza Grande ad Arezzo. Dal 4 al 27 dicembre sono attesi infatti 25 stand altoatesini che animeranno il cuore della città con la formula degli eventi natalizi ormai più che consolidata nelle regioni del nord. Ecco cosa dovranno aspettarsi gli aretini. Troveranno davvero i prodotti tipici dell'artigianato tirolese, della gettistica di Natale, dei prodotti tipici dell'enogastronomia e della gastronomia altoatesina così come troveranno una grande baita ricostruita, una baita alpina di 80 metri quadri all'interno della quale si potranno degustare appunto i piatti di questo territorio. Soddisfatti i promotori dell'iniziativa con la Confcommercio aretina che propone anche numerose iniziative collaterali con ampio spazio alla solidarietà. 23 giorni di eventi, iniziative, spettacoli, concerti. Dalla concerto il 5 dicembre della Vox Cordis, dell'associazione Vox Cordis, fino al lancio delle lanterne dei desideri il 20 dicembre. All'interno di questo firuse di eventi, due grandi iniziative benefiche per la Fondazione Maier e per il Calcit. Fondazione Maier con l'allestimento l'8 dicembre di un grande albero di Natale, la raccolta fondi andrà proprio alla Fondazione Maier e Santo Stefano per il Calcit, un'iniziativa con musica e divertimento per i bambini, sempre legata alla sezione retina del Calcit. Un insieme di appuntamenti promossi con il patrocinio del comune volti ad animare la città e studiati anche per offrire un'occasione concreta per il rilancio economico di Arezzo. Portare finalmente turismo a dicembre, e questa è un'attrattiva che sicuramente lo può fare e siamo sicuri che, certamente non con numeri grandissimi perché è la prima edizione ma lo farà, vuol dire anche portare un flusso di persone che possono spendere nella nostra città in un mese che è tradizionalmente dedicato allo shopping.